Ed ora la migliore intro che abbiate mai visto Are you ready? Guten Tag meine liebe Freunde in einem neuen Video Ich bin Pigette und heute bin ich hier mit Mit Hola signoros e signoros, bienvenido in esto video Today we are here for the first day We are here in VaporGame Pigette97 We are here to play To play To play To play Call of Duty Black Ops And we can play Black Ops 5 También podemos hacer un poco blasfemico Buongiorno signori e signori E' stata la migliore intro di sempre La migliore intro di sempre La migliore intro di sempre Comunque Siamo di nuovo qua insieme per giocare un po' su Call of Duty In realtà questo è un duplice video Perché non sarà solo un video in flash e gameplay Ma sarà anche un video vlog In cui dovrò parlarvi di un paio di cosettine riguardo al canale in particolare sul giorno del mercoledì Per tempo facciamo subito trovo a partita veterano deathmatch squadra Partendo subito quindi dal mercoledì Così poi mi concentro sul gameplay Sapete ormai da parecchio tempo che il mercoledì è il giorno in cui può uscire di tutto Ecco Ah scusa io direi anche dopo di offrire Se mi parla la gente addosso Eh infatti ho spento un attimo i vocaboli Di offrire un servizio un po' più ampio oggi Ovvero deathmatch squadra e dominio veterano Sì dopo si può vedere anche per quello Comunque Esatto Ritornando alla questione Il mercoledì Ho capito che non posso più andare avanti a pubblicare video come mi gira per il mercoledì Cioè perché viene difficile per voi seguirmi Mi viene difficile per me preparare i video e scegliere quale pubblicare Quindi risoluzione Creerò una scaletta di pubblicazione Ovvero magari un giorno un mercoledì uscirà un gameplay in flash Il giorno dopo un poem Un giorno dopo un music E il quarto mercoledì magari un angolo del nerd per dire Magari un manga reader In modo da creare quindi una scaletta di ordine Che possa rendere più facile per voi e più facile per me la gestione del canale E il fruire dei servizi che io vi porto Pagato Pagato Tantissimo guarda perché io tantissimo Una persona pagata Sì poi partnership che mi escono dal buco del c***o Esatto Mi traietta Vedete che abbassi un po' il volume qua che se no A few moments later Mannaia qui te muro te stronzo Perfetto ragazzi è partito lo sclero Puzzo la sclero Perfetto E via E via E si inizia Perfetto Ottimo lavoro Ottimo Veramente tantissimo Che bella domenica sera Perché la domenica mi lasci sempre sola Per andare a vedere la partita Di pallone Chi cazzo è che spara Sponchillo 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 Grazie Fai un po' d'aiuto Mi 723 Siamo Ma siamo delle pippe Uh questa gente Tutti gli spawn Ci sono loro Ti ho appena visto morire Ti ho appena vendicato Fa un c***o Brutto Raga è persa La prima è persa Tranquillo Dobbiamo ingranare Vostra madre Eh Stava per partire Giuro che lo sparo Perché vostra madre Ah vostro padre Doveva fargli un po' Non per si mettere in cinta Maledenzione Che palle Non è possibile Fare una partita del genere Di fronte agli iscritti Poi ci credo che ti metto Ti becchi gli hater Eh Guarda quanto riguarda gli hater Tu che sei hater E che sei iscritto Sei pregato di levare le balle Perché sei inutile Al sviluppo del canale Sì parliamone 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 Nel frattempo metto cargo No basta Il jacket vi prego Cioè Monotoni del cazzo Metti cosa Metti cargo Voto per cargo Eh ma non vale una c***o E vabbè dai E vabbè ci proviamo almeno figli All of us On cargo Please Grande inglese ragazzi Grande inglese Mamma mia Quindi parliamo di haters Parliamo di haters Perché ragazzi Voi iscritti che siete fedeli Che siete dei grandi iscritti Tra l'altro Salutiamo CrazyLory Che si è da poco Riconnesso con noi Dopo un lungo periodo di assenza Parliamo di haters Ciao Crazy Tra di voi c'è un traditore del canale Che si sta divertendo a mettere Dislikes A sciufolo Proprio a sciufolo A caso Apri i link Apri i video E mette dislike Così Non guarda nemmeno cosa parla il video Mette dislike Punto Questa è la sua funzione principale nella vita Beh In poche parole La tua vita non ha Un senso Se stai facendo questa cosa Di conseguenza Vedi di piantarla E le avete delle sballe Perché non sai Che a me Comunque Degli iscritti Come te Mi interessa relativamente Mi interessa di chi è Fenamente fedele al canale Di chi è Attivo sul canale La tua attività Non mi è utile Non è utile Al fruire Dei servizi Di questo canale Agli altri Perché rompi le balle A tutti In generale E sono sicuro Che tutti i miei iscritti Siano concordi con me E giuro che se mi spari Ti sparo pure io Quindi levati dalle balle E non rompere Grazie infinite Pighead Miglia se pieno E pieno Pieno di camper Laggiù in fondo Ce ne erano almeno 4 Colpo a distanza Sembrava La fine della Caritas Era in fondo A few moments later Bastardo Mi sono cagato addosso Mi sono cagato addosso Maledetto Rontro al curo Con chi? Un italiano Mi ha coltellato Ma cosa fa Questo Questo imbecille Cioè c'è un imbecille Della nostra squadra Guardava il cartello sul muro Stava qua Guardassimo che Bei arrotti in c***o Sono qua dentro Che c'è il quarto No C'era il quarto Dannazione Chi è questo genio Che ha messo sto guardia Sei uno sfigato del cavolo E meriti soltanto di morire Oh le è andato il guardian Ma va a cagare Sto italianino del bip Madonna No ragazzi l'avete visto? No vi giuro iscritti avete visto no? Cos'era quella roba? Un sacco di gente qua Sulla banchina di destra Dove ci stanno i container Bello Bello Bella Questa morte mi è piaciuta Sai come sono morto? Spiegano Ho messo Volato in acqua Eccolo lì Beh guarda i miei kill No noi abbiamo giocato anche bene Per carità di Dio Ma porco demonio Gli altri Che schifo raga Ma che è? 2.14 7.6 Ma che è? L'altro 10 Emanu Power 10 morti Praticamente ha vissuto per morire Quell'uomo Ma porco cane E anche E siamo già 16 minuti a passo No dobbiamo farne almeno una In cui vinciamo Non stacco il video Finché non ne vinciamo almeno uno Ricco Ricco Zero vittorie Zero titoli Vai 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 Titolo del video Due nabbi bilingue Bravo Eh vabbè Sascha Dopo questo Veramente Lasciamo perdere Guarda che mappa è uscita Ma che carino c'è? Non lo so Benito Camelag Come lag Benito come lag C'è Mussolini che lagga ragazzi Ha la connessione bassa Non riesce a connettersi C'è la 1G E le mite Uh vai Siamo se pronto Qua cos'è che utilizziamo? Non so che non mi ricordo più Connessione made in Tehran What? No io uso la mitagliatrice All'assalto direttamente Per dominio Perché almeno vado sul sicuro Con il lanciagranate E tutto il resto Speriamo di non essere buttati fuori Seguite Seguite la nostra tattica Ovvero andare su B Per di prepotenza Con nessuno che ci insegue Tra l'altro Siamo in due Oh no guardalo Forse No non è vero Era un'illusione Buttati su No che culo Bello Veramente bello Chi è che sta prendendo Non lo so Io sparo a caso No non c'era nessuno C'era un assalitore L'ho preso per culo Che culo sono salvato No Ma chi è? Ma che cazzo Mi è pieno È pieno B È pieno È pieno Lancia 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 Non ce l'hai salvato Io che non è No e vabbè Mi è pieno laggiù Ce n'era un intero team laggiù in fondo Raga ma che diavolo è No per carità di Dio Prendete qualcosa Prendete Sono subito solo Sto correndo Aspetta un attimo che non va il joystick Ok Ok ho ammazzato un pirla Io sparo un po' nella nebbia Non me ne frega niente Granata No cazzo Mi ha preso Mi sono ucciso con la mia stessa granata Cazzo È pieno di gente Vai vai Difensore ha ucciso Buttati giù Vai 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 No Mi hanno ucciso Mi hanno in posizione No Aspetta io cambio arma No vabbè ma Elpas Sfigato Sei un emerito sfigato E meriti di morire così Di fronte ai miei iscritti Becille Ok Subvisore Uno che avesse una infiltrazione tattica Ci ha fatto una figura brutta brutta Eh questo qua si è fatto una tripla Eh questo no Si è fatto una doppia Perché sei morti soltanto di te Dai dai che c'è l'Uav Dai che c'è l'Uav Dai che c'è l'Uav Scendili Buttali giù Guardali che assist Uno dopo l'altro Un altro Molto giù Lancia granate Stanno arrivando tutti da qui Presto arrivano tutti da qua Aspetta un attimo che li aspetto Guardali Eccoli qua Coglioncelli 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 Tutti quanti Coglioncelli What? Madonna mi hai fatto spaventare Sascha ero pronto a spararti Dove? Eh prima Adesso che sei saltato giù dal cornicione Che figlio di noia Quando vedrai in video Il mio tag sul mirino Ti sparai delle spaccate di risate Chi è il becile che mi ha sparato una flashbang sui piedi? Vabbè dai sparo una granata a casa Ma sei un rotto al culo Ma come siamo di punteggio scusa? Stiamo vincendo per adesso Però non siamo troppo incerti Quindi teniamo difesa alta Perché non abbiamo il vantaggio di poterci rilassare Uh Oh ma avete rotto un po' con le scatole Io sparo un po' di granata a casa Ci saranno i miei iscritti che vedranno Un imbecile che spara la granata a casa Perdiamo Perdiamo Ah Ok ho fatto una doppia Vieni qua Vienitene qua che ho fatto una quintupla No ma bello raga abbiamo Avevamo prima tutte le banche Oh capo capo No che sfigato Questo è lo sfigato della madonna Ho fatto una quintupla Sasha ho fatto fuori un team Aspetta che chiamo gli approvvigionamenti Coprite senza di me un attimo Uccisione al raffico Ho fatto 4 kill di seguito Coglione Mamma mia ho fatto fuori un team di una maniera assurda No 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 Ti in culo No ti in culo No mi sta rubando gli elstorm Che merda Aspetta chi è chi è chi è Eh andati ormai sono andati No Un culo Vi sto prendendo io Simo Vai vai pigliali Ti prego Presi Sì Dove li piazzo? Ok lo visti Su di loro su ci Buttali su ci Buttali su ci Buttali su ci Che ti fa la quintupla Bella Doppia No tripla no No doppia Dai dai che parte un'altra quintupla vai Cos'è che facciamo? No va che Oh ma questo qua lancia Cazzo cazzo No 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 Eh sono morto malamente Perché sono corso in B per salvarla Ma non ci sono riuscito Perdiamo cosa? Ma dove la perdiamo? Muorici Muori Che come scula sta Ultima kill Boom Ho sparato una granata a caso È la tua? No ho sparato una granata a caso Vedendo se riusciva a uccidere qualcuno È la mia È la mia Guarda come è sbarrellato qua Guarda Bello Figa gli hai fatto tre sagome Sascha Madonna santa Gli hai fatto una sagoma Destra Sinistra Sopra Sotto Gli ho fatto il contorno Sì infatti Ah ma sei primo in classifica Eh fia 18-13 ho fatto Ho fatto fuori un team tutti insieme Oh mi ti sposti Parco diavolo Devo passare Questo mi si è piattato in mezzo Non si spostava Fumogene ha preso Tutti fumogene Fighi Eh beh E figurati se no non veniamo presi in pieno Sascha E ormai la prassi No la prassi sai qual è? Che questo qua continua a lanciare Io ho sparato un granata a caso Arrivo 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 No ce n'è uno dietro raga C'è uno Spawn nostro Ce n'è uno Spawn nostro Spawn Spawn killer Spawn Spawn Devi morire Spawn Devi smorire E che sono figlio della mignota Chi è che sta prendendo B? Nessuno Stiamo prendendo Alpha Non prendiamo B Non penso prendiamo Alpha Ce n'è dentro uno eh Ce n'è uno dentro Arrivo Preso Preso Eh che schifo C'è un Che cacchio è russo Di giallo blu e rosso È russo uno con la bandiera gialla blu e rossa Hai rotto le scatole Tu e sto C4 eh Raga stiamo prendendo È colombiano Dobbiamo Dobbiamo conquistare Ho fatto una doppia Tripla Stanno passando tutti per la pila atomica Dobbiamo passare per la pila atomica Mi lanciate un qualcosa? Ci sono anch'io Presa Minchia Bellissima come l'abbiamo presa È stata bellissima Poi ci arriva l'elicottero stealth No Cazzo Prendono B Prendono B Buona Fatto la doppia Bella 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 Ho gli approvvigionamenti Vado Ho un altro OV Preso Ho preso un'altra kill Via Ho finito tutto quanto Tutte le granate Tutto Se mi arriva un altro Che mi ruba gli approvvigionamenti Mi cazzo No Questa volta no Ok Drone d'attacco ce l'ho Dove pensi di andare tu Scusami Chi è capitale Tira 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 Boom Dove è finito il mio drone Ho distrutto l'elicottero stealth con il drone Qualcuno subito Mi sento figo Sto sparando granate a merda Ma hanno messo la torretta Dannazione Non ce la faccio Raga Non ce la faccio Non ce la faccio Eh lo so Non posso farci molto Oh Ho beccato un nemico Con una granata a caso No Dai 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 Ci sono io Ci sono io Sono da solo Però sono da solo Mi serve su poco Sto arrivando se si leva dal cazzo No c'ho c4 Cazzarola No devi impiazzarti dentro la pila atomica Sascha Dentro la pila atomica Spawn killer Morto Sparo una granata a caso Boom Dai qualcuno che mi protegga per favore Boom Non posso farci niente Sono da solo Sono da solo Porco dito schifoso Sono da solo Sono da solo Vado 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 Ci sono spawn killer Non lo so Ah 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 Bella Mamma minchia sto benito Madonna senti pieno 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 No 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 Dove Eh qua 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 Ok preso No niente Ce n'è uno su b Attenzione Dietro i plinti di cemento Boom Granata Boom Ok Ne ho centrato un altro Sto facendo una strage Con sto lancia granate Oggi Sto facendo una strage Non pensi di andare Tu ciccio bello Mi hai rotto le scatole Ste cacchie di cose Boom Aspetta devo salire più in alto Boom Niente Dai Dai C'è un pirroa dietro Vedete qua Aspetta che sono camperati in loro spona Non perdiamo niente Cazzo Che succede Ti prego Gli approvvigionamenti Dai Chi Io sono nel loro spona Ti prego Please 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 Dai siamo in due che prendiamo Charlie Top Vaffanculo il guardian Abbiamo il secondo round E c'è questo secondo round Dimmelo Dimmelo Che cavolo Dico bene o no Iscritti Dico bene o no Certo che dico bene Guarda sono pure salito di livello Dai sono quasi al 40 Adesso quando chiudiamo ne facciamo altre Perché sono quasi al 40 di rango Dai si Adesso ne facciamo altre Comunque ragazzi Quello che dovevo dirvi Io ve l'ho detto Il mercoledì quindi Si formerà una scaletta Che Probabilmente metterò in descrizione A questo stesso video Quindi se lo volete vedere Come sarà strutturato Andate a vedere qua sotto Per il resto Ricordate di lasciare Like, commenti, share E ricordatevi di passare Dalla pagina di Vapor Game Ricordatevi di iscrivervi Nelle pagine di Facebook Che trovate anche quelle Sempre in descrizione E Da Pighead E Ciao Vapor Game È tutto Alla prossima ragazzi Stateci bene Ciao ciao Woo